E' un grande evento questa sera, aspetta aspetta, vengo qua, Fiorenzo, sai c'è Chris, non l'hai vista, tu l'hai vista, non l'hai vista, e mi dispiace un po' per lui, Fiorenzo, mi dispiace per te, oh, c'è davvero c'è la testa, lo sai, tu non ti crederesti mai, mi fai un po' come dire, no, è un accento un po' speciale, particolare, con un fascino, E' un po' l'antica, ma se la guardi bene, Fiorenzo, se la guardi bene, è un po' veloce, vieni, vai! L'auto-chip colpeno, sai è diversa dalle altre, e non pensano le adesine, ne ha metà, non ne ha ragione, ma sono la musica, L'auto-chip colpeno, sai è diversa dalle altre, e si partino a radio, si partino con le note, perché lei va, perché lei va, fa sola musica. Il primo tiro, il lato, diretto, ora c'è la seconda, no, ma, ok? Sì, vai come vuoi, perfetto, segui tranquillo, le più belle, fa la coda, scusi, dai la coda? Sì, hai la coda? Ti prego, Fiorenzo, ti prego, no, sempre almeno, scusa, no, va bene, va bene, vedate qua. E si manca già le mani, in a sogna, e non ce l'ha, eh, non ce l'ha, ma per noi, senza il normale, una di vera, resta là, vai insieme! L'auto-chip colpeno, sai è diversa dalle altre, e non ci suona le aventina, le aventano, le a gasolio, ma solo la musica. L'auto-chip colpeno, non serve il distributore, e si partino a radio, si partino con le note, perché lei va, perché lei va, ma solo la musica. E con la musica del grande evento stasera, con Fiorenzo a finale, che si è prestato l'occasione, vorrei a tutti i ragazzi, tutti voi, non finite qua, eh, non finite qua, si è pronto? E avanti! L'auto-chip colpeno, non serve il distributore, e si partino a radio, si partino con le note, perché lei va, perché lei va, ma solo la musica. Vai, vai! Vai! Grazie! L'auto-chip colpeno! Ah, ragazzi, mamma mia, che bello! Ho la pene loca! Guarda, io penso, per il pene vi ci ho messo, perché è una cazzone, come dire, di alto livello culturale. Bravissimo, guarda! È una cazzone che comunque va molto forte anche in Peru, in Sud America, in Uruguay, caro Mauro, e i tempi sono cambiati. Gli alpini! Prego! Gli alpini col muro! Soprattutto gli alpini col muro, bravo! Perché una volta era il mezzo di trasporto, gli alpini usavano, eh, c'era quella, eh. Solo che c'è la famosa storia del muro e dell'altro animale, che sentivo più furto del muro. No, 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 che il muro traversosi, il fiume, carico di sale, e il suo sale si sciolsi. Piantala, vengono di qua, ma meno, c'è, vengono qua. Ma non c'è, ma non c'è!